Sono Manuel Benedicter, architetto della casa Magnanelli, casa Clima Oro Nature a Montescudo in provincia di Rimini, una casa che ha un fabbisogno di 1,46 kWh per mq annuo, procedata insieme a Paolo Veggetti che ha fatto la progettazione impiantistica e l'ottimizzazione energetica. Buonasera, ingegner Paolo Veggetti, parlerò del progetto Casa Clima Gold Nature Magnanelli di Montescudo. Io mi sono occupato del concept energetico e della progettazione impiantistica. L'elemento più importante di questo progetto è l'interazione con il comitente e il paesaggio, con il paesaggio e con il comitente, sono entrambi i due punti cardinali di questo progetto. Dal mio punto di vista l'aspetto più importante per la progettazione e l'esecuzione di questo cantiere è stata sicuramente la progettazione integrata, una progettazione che effettivamente è partita in maniera integrata e completa con gli altri professionisti e anche con l'impresa che si è occupata dell'esecuzione fin dall'inizio. Quindi non più il termotecnico che entra in fase avanzata ma effettivamente partendo dall'inizio a fare uno studio che analizzasse il sito e via via andasse a ottimizzare qualsiasi aspetto. Gli ostacoli maggiori erano il gestire un terreno molto complicato che ha la vista verso nord, cioè non dove abbiamo i guadagni solari a sud come normalmente ci si aspetta, perciò la difficoltà era gestire le viste con le problematiche energetiche e con le richieste energetiche da parte della clientela. e anche il cliente che era molto esigente e avendo molta esperienza nella costruzione sapeva esattamente di che cosa parlava e dove voleva arrivare, però non era abituato a interagire con dei progettisti che anche loro sapevano dove volevano arrivare. All'inizio c'è stato un po' dell'attrito però da questo è nata una grande amicizia, devo dire di tutti e tre poi alla fine. Uno degli ostacoli ce ne sono stati vari perché comunque è un progetto abbastanza complesso, che per esempio per una casa a clima bassissimo consumo metteva insieme la necessità di una zona wellness che aveva delle richieste molto molto importanti dal punto di vista energetico, chiaramente molto maggiori di tutto quanto l'edificio e quindi riuscire a coniugare questo è sicuramente stato complicato. Non è stato difficile invece anche lavorare a distanza fra professionisti e committente. Ma l'aspetto che ci è riuscito a portare insieme era la voglia di dialogare e di vederla come una sfida divertente, non una sfida pesante. La progettazione insieme perché effettivamente anche Roberto Vagnanelli con Paolo Veggetti siamo dei caratteri tutti, tre abbastanza diversi uno dall'altro però devo dire che ci siamo arricchiti, io mi sono arricchito di amicizie e di un'esperienza di essere riuscito a poter costruire una cosa così ambiziosa, un edificio così ambizioso. Quello che è riuscito a migliorare e far sì che questo progetto arrivasse a una certificazione, la prima in Emilia Romagna, Casa Clima, Gold Nature, da un chilovattora per metro quadrano, quindi veramente molto poco, il segreto penso che sia stata effettivamente la collaborazione fattiva di tutte le parti e non ultimo alla fine si è creato anche una complicità sia data dalla progettazione ma ripeto anche dall'esecuzione che ha portato a un'amicizia, una grossa amicizia sia fra me che l'architetto che il committente nonché costruttore.